Bella a tutti asfaltoni e benvenuti sulle on tube eccoci in questo video per andare a fare a vedere meglio ancora il livello 12 eccoci arrivati al livello 12 del 28 luglio è un po' tardino ma vabbè quando ho potuto allora ecco qua tempo ad abbattere 1 e 17 con la mclaren mercedes anzi mercedes benz slr mclaren qui abbiamo in palio due progetti due progetti della ferrari la ferrari aperta fino a 60 gettoni 100.000 crediti e i soliti pacchettini con auto di livello B qui ovviamente se avete le auto già al massimo questi sono premi risori però vanno bene comunque questa è l'auto da utilizzare grado necessario vedete 3000 quindi se non ce la avete purtroppo non riuscirete a farlo potete fare gli altri eventi con l'auto a 3000 ma purtroppo i premi migliori vanno presi con la mercedes benz slr mclaren 1.17 se non ricordo male il tempo da battere 2.17 se non ricordo non ri Ok, questo è il tempo di defy Facile da fare con l'auto alla massima potenza Andiamo a fare ancora un giro Ovviamente qui andiamo a cercare di completare tutte le condizioni per andare avanti Sono 5, premio anche club Come sempre se non avete i problemi con queste auto E anche la McLaren, la Mercedes-Benz, SLR McLaren È un'auto che si prende nel multiplayer Per il multiplayer 1, sempre quello lì Ok 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 girato un pochino meglio ok ragazzi qui chiudiamo il video mi raccomando continuate a seguirci iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace e per avere le nostre notifiche cliccate la campanellina così vi arriveranno le notifiche soprattutto di quando escono i codici che sono sempre limitati ci vediamo quindi presto con un altro video domani con il livello 13 non mancate ciao a tutti